e ben ritrovati con la seconda parte di a tutto volle e il nome è un programma in tutti i sensi perché a tutto volle parla di volle a 360 gradi parla dei protagonisti parla dei personaggi che appunto non solo giocano a volle ma chi sono anche fuori dal campo nella prima parte abbiamo parlato con lucia bosetti un ex nazionale parliamo della cbf balducci elvia recina macerata ma il volle non è solo quello dei professionisti non è solo quello delle squadre oggi avremo una squadra veramente particolare anche loro sono dei campioni e ho detto particolare perché è una squadra mista parliamo di un campionato quello del csi e i campioni d'italia in carica della puma volley con noi abbiamo la palleggiatrice irene croceri e il l'opposto daniele palmieri benvenuti a tutto volle salve a tutti e benvenuti a tutti i telespettatori di a tutto volle daniele 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 dovrete lo conoscerete anzi qualcuno dei nostri telespettatori sicuramente già se lo ricorderà per un piccolo fuorionda in una visita di un centro medio adesso cerchiamo di essere seri per quanto ancora possibile e parlare con i nostri ospiti ho detto puma volle campionato csi quindi un campionato po diverso da quello che fino adesso abbiamo imparato a conoscere prima di questo però come sempre andiamo a conoscere i nostri protagonisti chi sono fuori dal campo la loro vita privata più o meno legata poi al mondo dello sport io direi per cavalleria se daniele giustamente penso che sia d'accordo comincerei proprio con irene croceri a te irene è una bella domanda allora io sono irene croceri lavoro ormai da tanti anni come responsabile marketing in banca macerata già da diverso tempo e ho vissuto diversi anni all'estero prima di tornare in italia e appunto lavorare in banca e quindi vissuto diversi anni prima a londra poi svezia e spagna quindi ho fatto diverse esperienze all'estero accumulato delle esperienze che però non ti hanno tenuta più di tanto lontana dai campi di gioco in realtà no in realtà no ho sempre trovato la palla a volo gioco a palla a volo fin da quando sono piccola da quando avevo 13 anni l'ho sempre trovato il legame per poter poi fare anche amicizia e anche inserirmi in un contesto nuovo in un paese straniero l'esempio più lampante è stato quando a londra appena arrivata la prima cosa che ho fatto ho cercato una squadra l'ho trovata e io dico sempre nel momento in cui sono entrata in campo ho già trovato 12 amiche e quindi in questo mi ha aiutato tantissimo anche nel ambientarmi in stati diversi in nazioni diverse in situazioni insomma quando si scende in campo prima di trovare una squadra è proprio il caso di dire si trova una famiglia e il volley ci sta insegnando tante bellissime cose lo sport in particolare naturalmente ma sicuramente il volley non da meno perché perché lo scopriremo proprio con questa puntata abbiamo sentito Irene e adesso andiamo a sentire Daniele per lui cos'è al di fuori del volley un po' la sua vita privata io sono molto più umile di Irene ho visto tra piedi ripa e poi mi sono spostato sono andato a vivere a San Claudio a tre km di distanza e ho vissuto sempre qui non sono non nasco nella palla a volo ho iniziato a giocare con la puma volley a 34 anni perché gli mancavano delle persone per fare allenamento quindi andavo per allenarmi con loro come si dice Daniele meglio tardi che mai è una cosa che poi stai continuando a fare non non venivo da uno da uno sport di gruppo e mi sono trovato ho trovato una famiglia ho trovato sono sempre rimasto sono siamo sempre cresciuti sempre insieme abbiamo fatto tantissime esperienze ho trovato un gruppo di persone di amici con cui ho piacere di stare nel campo e fuori nelle cene nelle feste e ci troviamo penso tanto io quanto gli altri ci troviamo molto bene insieme abbiamo piacere di passare il tempo insieme le soddisfazioni sulla palla a volo sono un extra un extra però ci sono e sono anche sono anche importanti ovviamente come dicevo appunto all'inizio della puntata di questa parte dedicata alla puma volley lo sport sicuramente la parte un po' catalizzatrice di questo di questa situazione ma l'aspetto familiare va oltre non non c'è un limite di età come potrebbe essere per i professionisti una squadra mista marito e moglie che giocano in squadra forse i figli ma sicuramente bordo campo come non so raccattaballe possiamo mettere come inizio parlo di tutto e sono ovviamente i primi tifosi quindi quale migliore occasione per unire la famiglia spesso invece divisa da qualche sport perché chi sta a casa chi non segue quindi per voi è una continuità cos'è la puma volley nel campionato CSI come è nata e quali sono le sue caratteristiche chi vuole rispondere questa è la tua perfetto la puma volley è nata nel 2007 da un gruppo di amici che voleva all'inizio semplicemente come dice Daniele ritrovarsi in palestra giocare a palla a volo divertirsi e passare del tempo insieme poi piano piano è sempre cresciuta 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 man mano i tesserati sono aumentati l'interesse è aumentato intorno intorno alla squadra piano piano anche il livello tecnico si è alzato ovviamente livello a livello pallabolistico e quindi ormai sono già diversi anni 17 18 anni non ho fatto il conto che siamo iscritti al campionato di CSI misto e in realtà già da diversi anni ci siamo anche iscritti a quello del femminile perché avendo appunto questa particolarità di avere sia una squadra mista che una squadra femminile in realtà adesso che mi ricordo bene avevamo anche una squadra maschile diciamo che c'è tanta voglia di giocare tanta voglia di essere in campo tanta voglia di 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 disputare delle partite di allenarsi e quindi il CSI ci dà la possibilità di fare sia le cose insieme maschi e femmine che i campionati separati e quindi siamo riusciti piano piano siamo arrivati adesso addirittura 50 55 tesserati più o meno più tutto quello che è ruota intorno come dicevi tu Mario le le famiglie i figli gli amici io sono io sono la prima mio marito gioca con me ed è anche l'allenatore la bambina che abbiamo ovviamente è la mascottina sì perché ovviamente è nata in palestra in palestra tutto il giorno e come succede con la nostra famiglia succede con tantissimi altri giocatori e giocatrici che portano in campo ma cosa succede quando si parte per una trasferta adesso quali sono le anzi passo indietro pardon quali sono le distanze quindi che percorrete per questo campionato e cosa succede quando si parte per una di queste trasferte proviamo un po' a raccontarla la parte più semplice la più semplice il campionato regionale diciamo finché giochiamo nell'ambito maceratese o nell'ambito marchiciano sono trasferte di un giorno si va a fare la partita si torna e è semplicissimo ci organizziamo con le macchine che una cosa molto carina che succede nella palla volumista è che chi c'ha i figli se li porta agli allenamenti e se li porta a ripartite e i bambini si guardano tra loro il bambino più grande guarda quelli più piccoli la mamma si toglie un pensiero e lo lascia al figlio più grande man mano che crescono cominciano a fare anche il tifo quindi avete già supportano i giocatori vai Mirko vai Mirko l'ultima partita c'era Michelle che urlava così è vero prima di entrare invece nel discorso del campionato io vedo alle vostre spalle un numero 23 ci sono delle cose belle vincite dei campionati purtroppo ci sono le cose meno belle che però danno e hanno dato anche la forza per fare per fare di più sì praticamente due due anni fa purtroppo il nostro amico compagno nel mio caso amico e vicino di casa anche da da quando sono nato ovviamente nonché capitano della squadra purtroppo ha avuto un tragico incidente stradale in moto e non ce l'ha fatta e purtroppo è venuto a mancare giocatore con Paolo Mercuri conosciutissimo sicuramente tanti che sentono questo nome lo avranno in tanti ambienti sportivi non solo di lavoro ma anche sportivo con tantissime società allenatore giocatore padri di due figli piccoli scoutman scoutman marito tutto e niente c'è stato per noi una tragedia obiettivamente perché è una cosa inaspettata giovanissimo 44 anni e ancora facciamo un po fatica però è successo luglio e pochissimo dopo siamo andati è successo diciamo prima della fine del campionato poco prima della fine del campionato esatto quindi poi a settembre siamo ritornati in palestra ma obiettivamente ogni cosa faceva pensare a lui ogni palla ogni battuta ogni Paolo era il capitano ma era anche un po il catalizzatore del gruppo no quello che ci teneva uniti quello che ci rendeva anche seri in tante cose quello che ci faceva scherzare in tante altre era molto serio molto professionale nel gioco però è quello che ogni tanto lasciava una battuta che quando la facciamo ora lasciava era migliore nella di quelle scontate perché è un professionista in tante cose e quando quando lui si permetteva di scherzare era il segno che andava tutto bene la battuta di Paolo vuol dire che tutto gira bene sempre stato un leader secondo me era proprio il leader naturale oltre al capitano che va bene però proprio il leader naturale della squadra e ha lasciato un voto enorme ma a livello non solo sportivo proprio a livello personale umano per tutti quanti abbiamo fatto un anno in realtà ancora giochiamo con la sua maglia appesa ci accompagna sempre e io dico sempre che poi quello che è successo poi dopo lo racconteremo diciamo l'anno dopo praticamente quando abbiamo fatto poi lo racconteremo tutto quanto io dico sempre veramente che una grossa mano in qualche modo non lo so come ognuno lo pensa come vuole però in qualche modo ha dato un suo apporto come dire anche a distanza e questo è non solo psicologicamente ma umanamente comprensibile e penso che sia anche un bel modo una bella maniera per ricordarlo per onorarlo assolutamente il lavoro era il suo amore e lo sarà insomma sempre stato fin da piccolo quindi e sono sono arrivati poi anche i risultati forse all'inizio inaspettati ma sicuramente meritati sicuramente inaspettati quando si vince una volta c'è come si dice c'è gusta ma quando si vince la seconda volta comincia essere una certezza e forse gusta anche molto di più la certezza non c'è mai perché sono il campionato un campionato che sta aumentando di livello quest'anno è diventato particolarmente tosto e finché regionale provinciale regionale si gestisce quando arrivi a livello nazionale l'asticella si alza molto e serve molta considerazione serve tanto essere squadra squadra e voi vi siete confrontati incontrati scontrati come vogliamo dire con anche delle forse realtà più grosse o su città più grandi e qual è stato il primo approccio o oddio adesso che succede oppure ce la giochiamo perché è una partita e va giocata le partite tutte vanno giocate è è stata il primo è stato veramente inaspettato perché paolo che l'aveva già vissuto aveva già fatto un campionato nazionale insieme a rita gentili e ci raccontavano che andare nazionale l'esperienza bellissima perché stai fuori stai con la squadra le partite è però è tanto emozionale tanto bello ce ne parlavano con tanto entusiasmo quando ci siamo arrivati era una promessa che abbiamo fatto di portarci questa squadra qualcuno l'aveva promesso personalmente a paolo e siamo riusciti a randarci e già era un grandissimo obiettivo non ci era mai riuscito la puma voli non ci era mai andata a un livello nazionale quindi già arrivarci è stato un grosso traguardo e già per noi era abbastanza giocarsi e vincere è stata una soddisfazione immensa Irene penso che concorda veramente io penso che il primo scudetto quello che abbiamo vinto la scorsa stagione quindi 2021 2022 ovviamente il più inaspettato perché era la nostra prima prima partecipazione primo anno che eravamo come ha detto giustamente Daniele alle fasi nazionali ma c'era stato qualche sentore durante a metà campionato che ci possiamo provare ci possiamo provare siamo sempre arrivate le fasi regionali poi perdendo magari quell'ultimo step proprio per qualificarci perché poi c'è una fase provinciale una regionale una poi nazionale dove ci siamo scontrate tra le prime quattro del eravamo già arrivati le prime quattro d'Italia diciamo e già quello poteva essere un buon risultato ma non non gustava non poteva essere solo un punto di arrivo diciamo che per noi era già essere lì era un'emozione grandissima perché era la prima volta non avevamo esperienza non sapevamo neanche di aspettarci o meglio le squadre le avevamo viste perché ovviamente avevamo un po studiato dai video da quello che troviamo anche di social eccetera ma nessuno ma nessuno conosceva noi la cosa diciamo divertente che nessuno conosceva questa era la cosa divertente forse anche a livello tattico più vantaggiosa per noi ci ha aiutato tantissimo diciamo senza fare i nomi delle squadre però che quando ci sono stati i sorteggi e quando le altre una squadra ha sorteggiato noi hanno esultato ma io non lo dico neanche per cattiveria è giusto anche io l'avrei fatto perché una squadra nuova non mai mai nessuna esperienza è ovvio che gli altri avevano tantissime Milano ad esempio tanti anni che vince Scudetti anche io non avrei voluto Milano diciamo squadre con giocatori di serie X giocatori di serie A nel roster è ovvio che affrontare la puma volle sulla carta magari la squadra questo è il primo anno nel sorteggio del secondo anno perché adesso un attimino vediamo che è successo perché non penso che ragionavano nella stessa maniera nel secondo anno penso che secondo me il secondo anno come dici tu vincere è difficile ma riconfermarsi molto più complicato abbiamo trovato tantissime difficoltà anche nella qualificazione perché nella finale regionale contro Polverigi che è una squadra molto molto forte e quest'anno si è dimostrato anche quest'anno si dimostra estremamente forte e competitiva stavamo perdendo 2 a 0 la finale regionale e poi l'abbiamo ribaltata e quelle sono sempre dico dico sempre sono le vittorie più belle perché vincere 2 a 0 gusta ma perdere 2 a 0 e vincere poi fare altre 3 sette rigiocarsi la partita anche solo per chi segue la partita è una sudata anche solo anche solo da fuori ma è una sudata quando arrivi al tie break mi succede anche quando sto in regia qualche partita figuriamoci a giocarla quella finale poi una squadra ripeto è molto forte molto preparata con una buona panchina quindi un ottimo livello ci ha sempre dato filo da torcere abbiamo sempre sofferti quindi stare 2 a 0 sotto e poi vincere 3 a 2 quella già è stata per noi una liberazione enorme quindi di nuovo andare alle nazionali anche nel campionato 22-23 anche quella è stata un'emozione forte come ricordate proprio quella giornata la finale la partita o la va o la spacca vediamo ognuno di voi come la ricorda all'inizio pre e dopo gara ecco facciamo così io ho un momento mio più emozionante dell'ultimo campionato di quest'anno è non ti offendere Mirko Capotondo che è un giocatore di grandissima esperienza un ragazzo che tanti anni che calca tutti i campi gioca con le difficoltà fisiche di un giocatore per lavoro di esperienza ginocchia andanti spalle andanti diciamo che un po' l'età non aiuta l'età non aiuta l'ECSI è questo il bello è che ci sono ex giocatori giocatori che non riescono a fare un buon livello e vengono a giocare con noi Mirko ha una battuta migitale è una fucilata la prova quando le partite sono così dure quando stai in una finale vince chi sbaglia meno quindi anche se c'è un colpo fortissimo tante volte non ti viene rischiarlo oppure lo rischi ne sbagli una quella dopo batti i piedi a terra Mirko al saldo tira delle bombe andando verso il fine partita eravamo entrati in un'onda positiva ci usciva tutto bene ricordi parziali di quel no mi ricordo sul 22-21 va al servizio Mirko parte di quel piede a terra e poi dei giri di battere al saldo se la sente se lancia la palla e tira due fiocinate fa due ace filati su una palla che il resto non era riuscito il momento più amore guarda mi commuovo ancora sono quelle soddisfazioni la gioia che provo io nel vedere un mio compagno che riesce in un colpo bello questa è un'ulteriore dimostrazione magari chi davanti ai figli e agli amici dire ok non è che a 30 anni devo lasciare oppure perché non c'è mai mollare due volte campione d'Italia quest'anno come sta andando il campionato ultima partita lo può fare e questo è il bello dell'emozione di poter raccontare diciamo sempre lo sport visto dalla parte dello sportivo del giocatore che in campo può essere una persona ma ricordiamoci che fuori campo è sempre un'altra persona è umano sbagliare ma è bello divertirsi e soprattutto giocarsela tutta la partita Daniele quello di quest'anno sarà come gli altri campionati che fino all'ultimo non sapremo mai se ci andiamo o no l'anno scorso abbiamo recuperato il tie break l'anno scorso siamo stati classificati come miglior seconda quindi a un certo punto abbiamo perso una partita eravamo sicuri di essere fuori prima di candidarci c'è stato il tie break e quest'anno già siamo in salita perché abbiamo perso due scontri diretti con due squadre molto forti molto preparati ogni anno diventano più forti specialmente quando tu hai lo scudetto la squadra che viene contro i te è molto più agguerrita sì tutti vogliono vincere contro i te è vero ma anche la prima in classifica che magari è prima a tanti punti dalla seconda ogni partita anche l'ultima in classifica lo vediamo nei campionati nazionali se la gioca fino alla morte perché magari retrocedo però la soddisfazione è di aver battuto questo è un'arma a doppio taglio a volte essere primi in alcuni casi mette timore quando dicevamo noi quando siamo andati noi la prima volta c'era Milano che tutti gli anni vinceva e c'è Milano e come dire si conferma tutti gli anni che siamo noi per battere Milano il secondo anno noi eravamo quelli con lo scudetto e secondo me qualche avversario quel po' di timore in più sicuramente sì voi giocate la palestra di Casette Verdini il giovedì sera le partite in casa e l'ultima partita l'avete giocata a Iesi martedì scorso contro una squadra che è seconda insieme a noi anche qui l'allenatore nostro Manuel Sibilla prima di ogni partita ci mette una tensione questi sono forti si sono rinforzati tanto no ci carica ci carica ragazzi ti motiva ti motiva pronto a tutti quindi se c'è un impegno ti devi liberare perché questa partita è importante noi siamo sempre la cosa bella di questa squadra la panchina quant'è lunga oltre a chi gioca il campo adesso voglio capire se qualcuno viene a avere le partite mi capiterà molto spesso di avere giocatori diversi il bello di questa squadra è questo che sfortunatamente siamo una bella famiglia e ci abbiamo tanti elementi chi ha un impegno per ormai siamo gente di 40 anni la squadra va dai vinturi lavoro ovviamente dai 21 ai 49 c'è tutto quindi c'è chi c'è impegni lavoro famiglia e quindi fortunatamente abbiamo molti molti cambi molti cambi e riusciamo a mettere sempre in campo una squadra giusta questa partita qui abbiamo convocato tutti alle armi perché era una battaglia e si è rivelata abbiamo giocato molto bene sicuramente abbiamo potuto molto forte messo in difficoltà la loro ricezione e quando prendiamo due o tre punti di vantaggio poi giochiamo al nostro meglio quando stiamo sopra siamo brillanti quando stiamo sotto non allo stesso modo prossima prossima gara sarà una gara casalinga giocheremo in casa arriva un derby arriva un derby il 29 febbraio in casa a Casetti Verdini contro BLS che è l'altra squadra del CSI di Macerata quindi siamo solamente di Macerata proprio città diciamo siamo due squadre e quindi sarà il derby contro BLS allora direi che è proprio un invito io lancierei un invito ai spettatori la palestra è aperta di spazio ce n'è per tutti vincano i migliori ovviamente poi se non c'è due senza tre per una terza riconferma quest'anno come ha detto Daniele il campionato è più dura la concorrenza si fa sempre più agguerrita e secondo me è anche giusto così e anche più divertente così perché comunque poi alla fine è sempre la squadra migliore che vince e proverà poi andare alle nazionali quindi qualsiasi squadra sia sicuramente anche quest'anno le Marche porterà su una squadra che può fare che può dire il suo alle nazionali chiunque sia se saremo noi se sarà Polverigi se sarà non lo so Porto Santelpio ci sono tante squadre la stessa Iesi tante squadre molto competitive quindi il campionato è lungo noi faremo di tutto per giocarcela bene e poi vincerà il migliore vincerà il migliore guarda io vi faccio un'ultima domanda perché siamo abituati sempre con squadre ovviamente serie A serie C che hanno sempre problemi di panchina acquisto giocatori sponsor come è il discorso anche sponsorizzazioni per una squadra come il CSI che fate molto in proprio immagino una cosa familiare riuscire a trovare un supporto come funziona? qui rispondo io che prima facciamo una piccola parentesi io ho una piccola azienda distribuzione bevande e ogni allenamento porto due pacchi d'acqua a gratis a mie spese se me le vuoi rendere grazie lo faccio senza scopo di lui supporto logistico ci vuole lui c'è sempre dicevamo appunto c'è un auto finanziamento c'è un auto finanziamento allora siamo partiti con un auto finanziamento che comunque tuttora va avanti quindi una piccola parte di auto finanziamento c'è sempre poi c'è la ditta palmiere costante che ci dà sempre una mano per qualsiasi cosa in realtà devo dire che da tantissimi anni ormai non conto più neanche quanti abbiamo associato i fisio med che ci segue che è il nostro main sponsor veramente da tanti anni che ci supporta non solo a livello medico ovviamente vi siete messi a sicuro siamo fortunati l'abbiamo messa in cassaforte infatti ricordo un fuorionda proprio con Daniele però vabbè basta con questa storia c'è una reputazione insomma no con fisio med è da tantissimi anni che collaboriamo anzi li dobbiamo sempre ringraziare con il cuore perché ci seguono ci aiutano non è lo sponsor dico sempre non è lo sponsor che viene ci sostiene poi scompare ma è sempre presente e per noi è fondamentale ma veramente anche a livello di fisioterapie di tutto quello che serve purtroppo quando si fa un'attività sportiva esatto però di no si spera di no ma tanto serve siamo ospiti di fare il stock sia quando fai inaugurazioni che quando c'è da provare i macchinari esatto li proviamo tutti e poi devo dire che negli ultimi due anni da quando abbiamo vinto questi due scudetti onestamente sta diventando un po' più facile abbiamo trovato diversi sponsor non li sto qui a nominare anche per non vorrei annoiarvi però diciamo che la visibilità comincia a essere maggiore per noi come squadra e quindi abbiamo anche tanti amici che obiettivamente ci aiutano perché ci conoscono perché alcuni ragazzi giocano con noi e quindi magari con le loro società ci danno una mano però obiettivamente sta diventando un pochino più facile reperire una piccola realtà che sta crescendo e che ormai si imposta anche a livello nazionale quindi giustamente se ci sono degli aiuti e diciamo extra ovviamente gratificano molto graditi però è più facile adesso ci conoscono diciamo un pochino di più quindi è più facile presentarci far vedere quello che facciamo che siamo comunque una società seria che dietro alla famiglia al divertimento c'è comunque un lavoro una passione un impegno grosso da parte di tanti noi e quindi vedo che viene apprezzata alla fine anche perché fare un campionato c'ha i costi di affitto palestri trasferte prima quando poi c'è la trasferta c'è tutta una serie di spese noi essendo una grande famiglia quando ci spostiamo ci spostiamo con mariti mogli fidanzati amici e all'ultimo campionato abbiamo spostato quante persone? l'ultimo eravamo 55 no 50 tra figli eccetera anche perché obiettivamente scusami come dicevo prima abbiamo anche una squadra femminile mentre la maschile purtroppo poi il campionato non è più donato avanti quindi non abbiamo più potuto farlo la femminile in realtà sono già tanti anni che gioca che partecipiamo al campionato anche con la femminile anche lì siamo campioni regionali siamo stati campioni regionali già in passato e siamo andati nel 2019 siamo andati nel nazionale siamo arrivate seconde l'anno scorso sempre nazionali siamo arrivate terze e quest'anno abbiamo tanta voglia di migliorarci non dico altro dico solo questo e quindi è tutto un gruppo un po' di sana ambizione non fa mai male anzi ci deve essere però l'ambizione c'è ovviamente anche con la squadra femminile perché comunque è una squadra competitiva non lo nego e quindi è giusto anche che sia così però ecco diciamo che questo gruppo di cui parla Daniele tra visto che c'è anche con la squadra mista chi è più ambizioso l'uomo la donna ve la battete in campo l'uomo l'uomo coltello fra i denti abbiamo sfatato un bito i ragazzi sono di un competitivo impressionante io vengo libido una mano a me non interessa il risultato invece ma anche in allenamento non parlo solo anche in allenamento sì sì no no quindi no no sicuramente ragazzi c'è una grande unione comunque anche col femminile quando quest'anno abbiamo vinto nel misto siamo arrivati i primi abbiamo festeggiato in campo il momento della vittoria dieci minuti di euforia fino a che qualcuno con il momento di lucidità ha detto ragazzi ma le ragazze stanno giocando andiamo andiamo stavano facendo la finale senza doccia dove le ragazze stanno giocando il finale terzo e quarto posto siamo entrati cinquanta persone in campo pura sana pazzia sportiva senza doccia quindi non voglio immaginare però le ragazze l'hanno detto comunque che anche tutto questo supporto poi le hanno aiutate a vincere il bronzo assolutamente sì assolutamente sì questo è anche il bello e vi abbiamo annunciato una seconda parte particolare perché si è parlato di volley ma finalmente siamo riusciti a farlo anche in un modo diverso dal solito dove lo sport unisce ancora di più e ecco sicuramente accorcia quelle distanze a volte che ci sono con la famiglia con gli amici questo è tutt'altro non succede e poi ci sono anche i risultati che secondo me gratificano non solo per trovare lo sponsor ma soprattutto per la famiglia per gli sforzi che si fanno e ultima cosa abbiamo detto e non ci stancheremo mai di dire che non esiste un'età per fare o non fare delle cose perché molti ovviamente l'età quella anagrafica è una cosa quella sportiva come si sente dentro sicuramente è un'altra la Puma Volley l'ha dimostrato sta dimostrando e quindi merita anche di essere secondo me seguita incoraggiata nei ulteriori risultati che sicuramente potrà ottenere oggi più che un'intervista è stato un po' un incontro tra amici trasportivi appassionati direi di sport grazie proprio a Daniele Palmieri gli abbiamo dato il ruolo di opposto poi dopo ci dirà perché magari però Irene Croceri la palleggiatrice che ci hanno tenuto compagnia e fatto conoscere questa bella realtà ragazzi grazie a voi buon proseguo e per le famiglie continuate a seguirle perché come vedete i risultati ci sono grazie a voi fate sport fate sport assolutamente sì e solo per il momento termina questa seconda parte dedicata alla Pumavolle di Macerata il programma proseguirà con altre interviste piccola pausa ma vi ricordo approfitto per ricordarvi che questa come le altre puntate presto saranno anche disponibili tramite i nostri canali social piccola pausa ritorniamo subito con voi grazie a tutti